Castel di Sangro è l'unica località del centro sud Italia dove il mercato immobiliare è attivo con incremento del valore del prezzo. Un dato che emerge da una ricerca pubblicata dal Corriere della Sera che ha evidenziato che dopo anni di calo le quotazioni si sono risvegliate. Per le località di montagna si registrano aumenti per il 2,6% con crescita più sostenuta nel Veneto e in Abruzzo. Nella classifica delle località di montagna dove comprare diventa un buon affare, dove si punta ad affittare per le vacanze, c'è Madonna di Campiglio in testa. Ma come unica località abruzzese del centro sud figura appunto Castello. È un risultato che ci meraviglia anche se poi era un po' percepibile perché sono condizioni che si riescono a verificare anche un po' così sommariamente. Certamente è il risultato di un lavoro importante, è un risultato che premia sostanzialmente la capacità attrattiva della città e del nostro territorio. Perché offrire servizi di guagliaturismo significa poi rendere gradevole e interessante quindi la vacanza in quei luoghi che si declina con le strutture ricettive e con la casa vacanza. Questa è un po' la strategia che io credo possa essere in qualche modo ampliata ma insomma probabilmente definita anche un po' su tutta l'area centrale del abruzzese. La presenza del Napoli Calcio da ormai tre anni nella bella località poi tira eccome a livello di marketing territoriale e gli effetti si vedono. Anche la stampa nazionale ne parla con costanza. Noi abbiamo una costante presenza nei 15 giorni di 110 giornalisti nella nostra città, tutte le testate tv nazionali, tutte le testate della carta stampata più importanti e tutto il resto che fa la sua parte e definisce ovviamente una consistenza di pubblicazioni giornalistiche importantissime che insomma fanno parlare, attirano attenzioni e io credo che l'Abruzzo questa esperienza soprattutto al terzo anno che si è svolta in una maniera libera, normale come abbiamo sempre sperato di riuscire a fare. Quest'anno ci siamo riusciti quindi al di là del dato immediato, cioè la presenza turistica nel periodo del ritiro ma anche l'effetto della stampa, quindi l'effetto mediatico è stato formidabile.